Siamo qui per parlare di questa signora qua, Zlatan Ibrahimović. Ehi, Zlatan, mi stai ascoltando? Se vogliamo parlare oppure giocare. Così, grande! Dai! Sì! Papà, ho trovato Bombasta, ne come Bruce Lee e Momad Ali, ma nel calcio. Vola come una farfalla? Pungi come un'ape. Combatti, combatti. Prova a passare il pallone ogni tanto. A te? Se non vuoi portare rispetto a me, almeno rispetta la squadra. Dove sei stato? Fuori. Guardi! Vola! Che hai fatto? Scusa. Ti ricordi che cosa diceva Ali? Stasera ballerò. Sì, ballerò. Stasera ballerò. Sì, ballerò. Mi alleno il triplo. Sto facendo gol. Voglio andare via da qui. Fai a Torino, allora. Cosa? La Juventus vuole comprare me. Sa parlare? Lui parla con i suoi piedi. Che cosa vuoi? Essere il migliore. Allora dimostramelo. Etla questa da tre Stasera ballerò a tre Eltimi azz WOMAN STASER